Radio Roma Capitale tv.it siamo sempre sul lago di Bracciano, questo è un altro punto dove qualche mese fa eravamo venuti a verificare la situazione del lago ebbene qui c'era più spiaggia davanti diciamo così anche se poi si intravede qua giù ancora tanta spiaggia che prima non esisteva ricordiamo che ad oggi il lago è quasi sotto di 130 cm comunque e si vede qua giù vedete in questo punto qui c'è una linea della spiaggia della costa che prima non esisteva però qui sotto vedete l'acqua riguadagnato 41 cm ci ha spiegato il nostro ospite di Bracciano Smart Lake Emanuele e questa è la situazione ad oggi davanti a noi vedete c'è il castello di Bracciano, il castello dei scalchi di Bracciano eccolo qui quello è Bracciano e dall'altra parte è Anguillara quindi questa è la situazione vedete molto importante anche verificare lo stato appunto di altri punti del lago lo stiamo facendo qui ed eccola la situazione eccola qui quindi vedete quello che ricorderete qui addirittura c'erano possibilità di camminare per qualche metro in più adesso qui è tornata un po' di acqua sono sassi purtroppo anche qualche rifiuto però ecco certo andando più là invece si vede ancora ahimè molta molta spiaggia eccola qui meno rispetto all'ultima nostra visita però ce n'è ancora per il momento da Bracciano è tutto